40 carte, va dai lì, vuole entrare sto ragazzo nei Guinness dei primati, deve essere impazzato, ma come fai a ricordarti tutte le password di tutti questi conti, che poi, oh, queste sono 40 carte, ma sono quelle fise, ma lui, e c'è anche quelle virtuali, questo non si agregge più, ora appena arriva, e glielo dico, e bisogna intanto che mi faccia chiudere quello del conto vecchio, che lì ho le spese, e mi succhiano i padrini per fare qualsiasi cosa, perché se no, che fai, o gli fai la delega a lui, e lo mandano in banca, vediamo se mi ci parla un po' lui, e si intende con questi della filiale, se mi riescano a chiudere loro, mi fanno sto favore, in qualche modo, le spese invece le voglio avere più, e mi ha messo in tasca, è stata la più bella, che c'è il codicino, che tu piglia subito 20 euro, la prima spesa, il 20% il primo mese, è un monte di ose, bbba, ora, e tu mi ha fatto venire, questo video bisogna farlo, che di, se no, che ci sono venuto a fare? Sì, e come fò? Lo senti e poi c'è benvenuto, come fò fai il video, ma che sei pazzo anche te? Ho capito che tu c'è una voce, che tu fa un cappone, il video, e le va fatto uguale, non si può mi aspettare, noi vi è, ma poi, e c'è ancora da fare il video, perché sono arrivato a me 40 carte attive tutte volte in contemporanea, un monte di ose c'ho da dire, in video sono ancora ascrivile, allora, io tu mi ho fatto aprire questo 8 di bbba, quello e l'altro, ma c'ho ancora il conto, quello lì, all'asta di risparmio di Firenze, che mi pelano un monte di quadrini, allora bisogna che tu mi insegni te, come si fa, per le spalle più nulla quello lì, sennò erudere dubbi presenti e li novi, ci stiamiamo un puilo a chi vecchio, ovvio! Peter, Peter, anche me, ci ho da preparare ancora il video che sono arrivato a 40 carte, un sogno che diventa in realtà finalmente, e ce l'ho fatta, e ora vicino di Barri dice, però bisogna fare il video ovunque, ma ha fatto lo stesso, te lo dico, è molto facile, per il tuo 8, quello vecchio, l'asta di risparmio di Firenze, che è diventata il gruppo intesa San Paolo, riesco a fattere un'aiute non solo gratis, ma riesco anche a fatti pigliare 75 euro per chiudere, ma ancora più credibile questo canale YouTube, puoi dare il risparmio? 75 euro per chiudi il conto di guadaglio? Peter, ma io a questo modo aiuderei un conto tutti i giorni, e va fatto tutti, e 75 euro, e voglio essere buono anch'io, ah! nonostante la voce, scusatemi, ma siamo stati in piscina, sulla triatio, e è andata così, e sta uscita, ha tirato, bagiaccia, e l'ho presa, anch'io sentire voce, e allora questo video si farà così bene, se no, parla a te, io che devo fare sto zitto, e allora è come funziona, se tu hai anche te, come Gino, un vecchio conto corrente, che crea spese di bonifici, per sposta soldi dal conto alla prepagata, un sacco di spese di tenuta conto, di canone e mensile, per far prelevamenti agli sportelli dell'ATM, eccetera, eccetera, Gertemone ha trovato modo per farlo chiudere gratuitamente, perché c'è dei recoperzani e si chiude senza spese, ma tutto quanto si fa comodamente, senza andare come pensa a Gino, bisogna andare allo sportello, bisogna andare a fare le file, bisogna andare per piacere, se ce lo aiutano, perché non sarà più bisogno, non si fanno queste cose qui, non ce ne frega nulla di andare a fare le code, come anche Gino, puoi partire dal link sotto in descrizione, se non sei cliente Udiva, se non sei mai stato cliente Udiva, se non hai un conto corrente, anche con il testato del Monte dei Paschi di Siena, oppure hai un conto perché sei un parente di primo o di secondo grado, di un dipendente del Monte dei Paschi di MPS, se non sei nessuno di questi, non hai questa limitazione, si fa subito dal nostro computer, se hai sotto 30 anni, puoi riuscire ad aprire con lì qui sotto il conto corretto di Udiva totalmente gratuito, se invece hai più di 30 anni, puoi avere il conto di Udiva gratuito per il primo anno, partendo da lì si può aprire anche con la speed, se non sai come fare la speed, dal vecchio video per fare la speed con Siena, vanno a vedere, una volta che sei partito, basta fare le foto ai tuoi documenti di identità, fronte e retro, e fare un selfie per avere l'apertura del conto corrente, avrai un IBAN gratuito, una carta altrettanto gratuita, che ti arriverà gratuitamente a casa, te la potrai sfruttare mettendoci qualche soldo sul conto e facendo un primo acquisto, una prima spesa, ma la cosa principale sarà quella di portare all'interno della tua app o del tuo sito di Udiva, una volta allogato, il sistema interno a Udiva che ti permette di chiudere gratuitamente il conto corrente di un'altra banca, si può riuscire in questo modo ad avere addirittura un buono Amazon da 75 euro, direttamente nella domenica e sul conto di Udiva, vediamo insieme come si fa, se entra all'interno di Udiva, si cerca UdExpress e una volta all'interno di questo modulo si mette come prima cosa l'IBAN del conto che si vuole chiudere, poi verrà chiesto se oltre al Liban abbiamo delle carte, in questo caso verranno chieste i numeri delle carte da dover annullare e chiudere, altrettanto se hai delle domicilazioni bancarie di bolletti, i read di queste domicilazioni vanno inserite se vuoi all'interno del sistema di UdExpress, tutto quanto al computer in soli 5 minuti avranno dai 10 ai 12 giorni per contattare l'altra banca a chiudere tutto quanto, spostare il saldo che deve essere in positivo che hai sull'altra banca, ti ritroverai direttamente in conto, a quel punto il gioco sarà fatto, avrai fatto questa azione di far chiudere il tuo conto corrente di un'altra banca attraverso il sistema di UdExpress, questa azione come anche quella di portare se vuoi in conto stipendio o pensione oppure questa chiusura, da lì a 1-2 mesi al massimo il buono Amazon da 75 euro da ritirare e inserire all'interno del tuo saldo di Amazon che avrà un tempo di scadenza di ben 10 anni. E ci hai conto che anche la fedora si potrebbe dire anche a lei, a quella ulona, si riesce a fare 375 euro e si va da qualche altra parte a divertirti un'altra volta e riforma vettone a giant money anche alla prossima vacanza. Ti abbiamo tolto un altro problema e ti abbiamo fatto guadagnare 75 euro, iscriviti al canale youtube votante al risparmio, clicca sulla campanella, un bel like e al prossimo video sulle 40 carte completamente attive e in funzione totalmente gratis e con bonus e con cashback quali sono le migliori? Grazie. Grazie.